Tutto confermato. Il quarto report settimanale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale relativo al periodo compreso tra il 22 e il 28 gennaio ha confermato i resoconti quotidiani diffusi dall'osservatorio ambientale che evidenziavano una sostanziale risalita dell'inquinamento atmosferico, in particolare per quanto riguarda le polveri sottili. Un incremento dei valori dei diversi agenti inquinanti dovuto soprattutto alla situazione atmosferica con la presenza di un anticiclone che ha determinato un blocco della circolazione dell'aria. Nello specifico riguardo ai biossidi di azoto, il cui livello di allarme scatta a 200 microgrammi, la media è stata di 42 microgrammi al porto, di 60 a Villalbani, di 30 in via Morandi e di 78 in via Roma, tutti in notevole aumento e talvolta tripli rispetto al report precedente. In crescita i valori del particolato, ovvero del PM10, con una media di 19 microgrammi rilevati al porto e di 36 nella centralina di Villalbani. Il limite massimo del PM10 è comunque fissato a 50 microgrammi. In salita anche il monossido di carbonio, rilevato dalla centralina di via Roma, passato da 0,3 a 0,6 microgrammi e nella centralina di Fiumaretta, dove è passato da 1,1 a 1,3 microgrammi. Sempre a Fiumaretta in crescita il valore del benzene, passato da 0,2 a 0,4 microgrammi. Livelli degli inquinanti in aumento anche nei diversi quartieri cittadini. Per quanto riguarda i biossidi di azoto si va dai 5 microgrammi di Sant'Agostino, agli 11 di Aurelia, ai 15 del Faro, ai 18 di Fiumaretta, ai 19 di Campo dell'Oro e ai 29 di San Gordiano. Per il particolato si va invece dai 14 microgrammi di Aurelia e ai 19 di Campo dell'Oro, ai 20 di Sant'Agostino e Fiumaretta, ai 21 del Faro, per finire con i 23 di San Gordiano. In salita infine i livelli delle polveri ultrasottili, il cui valore massimo non deve superare i 25 microgrammi e che sono state misurate a 8 microgrammi a Sant'Agostino, a 9 a Campo dell'Oro, a 11 a Fiumaretta e a 15 al Faro.